La storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrasova continua a tenere col fiato sospeso i loro fan. Nonostante la loro separazione ormai da diverso tempo, gli appassionati non hanno mai smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex-geffini. Le voci su una nuova donna nella vita di Luca hanno alimentato ulteriormente le speculazioni, mentre Ivana sembra non avere flerti in corso. È stata la risposta di Ivana a lasciare tutti senza parole. In risposta alla domanda diretta di un follower su Instagram su Luca, la modella ha dichiarato senza mezzi termini, assolutamente sì. Questa affermazione ha scatenato un'esplosione di commenti e interrogativi tra i fan, desiderosi di saperne di più sulla situazione tra i due. Le interpretazioni sono molteplici, c'è un ritorno di fiamma in corso o si tratta semplicemente di una profonda amicizia che li tiene ancora legati? La risposta di Ivana lascia spazio a molteplici interpretazioni e lascia i fan con il fiato sospeso, desiderosi di saperne di più sulla vita sentimentale dei loro beniamini. Indipendentemente dalla natura del legame attuale tra Luca e Ivana, una cosa è certa, il loro rapporto è rimasto forte nonostante la fine della loro relazione ufficiale. Continuano a dimostrare affetto reciproco e a mantenere una connessione speciale, che potrebbe anche evolversi in qualcosa di più profondo in futuro. R. Mentre i fan rimangono in trepidante attesa di ulteriori dettagli sulla situazione, non si può fare altro che ammirare la tenacia e la determinazione di Luca e Ivana nel preservare il loro rapporto, qualunque esso sia. Resta da vedere quale sarà il prossimo capitolo della loro storia, che continua a suscitare emozioni e interesse tra coloro che li seguono con passione. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.